Il salto con gli sci A tuo giudizio qual è il gesto più alto compiuto da un atleta nello sport anche appartenente a una disciplina diversa? Il gesto di altri hanno sicuramente fatto i tanti atleti, adesso parlando di me, questo è un gesto che ho fatto che mi è piaciuto tanto e che ho dedicato la mia medaglia a una mia amica di squadra che trovo scoperta quest'anno. Grazie a Elena Rungaldier, componente della Nazionale Italiana di Salto con gli sci. Prego.